Da Lions sempre più fantastici, tra l'altro segnaliamo il ritorno in campo in campo tra virgolette di Capitano Marranca Walter l'altra volta l'hai visto come si è concierto il tuo Paolo con un occhio gonfio non so se tu hai visto l'intervista da gladiatore Dio che giocatori che hai da gladiatore, da gladiatore comunque soddisfatto della squadra che hai visto? soddisfattissimo abbiamo fatto il film in campo in azione i due nuovi acquisti Cavalli-Ciofalo qua c'è Cavalli dove inserimi in la... prego prego grazie grazie ottimi acquisti tutti e due oggi li ho visti per la prima volta in campo oggi evidente c'era una sorta di José Mourinho che dava i cambi faceva entrare Cavalli-Ciofalo io sono riuscito a cinque volte è riuscito a interpretare tutti i cambi facendo segnare ogni volta che entrava Cavalli-Ciofalo l'unico che era riuscito a fare segnare è Kevin meschino i piedi si sanno di Kevin non ha segnato non gioco più io si può scordare il cannoniare ma insomma non lo so non può scordare ma fa un culo va comunque questi deroghi si volano nell'attesa della prossima sfida vi ho battuto oggi una diretta concorrente comunque per le prime posizioni è vero è vero un ottimo biglietto da visita diciamo per la prossima settimana un ottimo risultato perciò ci presentiamo contro gli space jam molto carichi siete carichi abbastanza che sono infermabili questi space jam quindi non so voi ci proveremo con tutte le nostre forze a giocare al meglio abbiamo visto che alla fine abbiamo trovato la manca ma con Cavalli-Ciofalo davanti che riescono a scambiare in modo perfetto con Kevin e mentre dietro ci troviamo bene nonno mai ma poi siamo anni di controcanto Messina e Cirino beh si sta ingolfando adesso mettetevi un tempo si è emozionato si si comunque Mark Eros analizziamo i singoli Mark Eros sempre ottimo portierone Messina che segna Messina assist mio oggi era un poco giù però pure lui viene da un infortunio piccolo dal ginocchio però si sta riprendendo pure lui un po' più difensiva sempre Marsala-Cirino ottima che già sta bene il pallone soddisfatto sono rientrato e vedo un'ottima spada perfetto perfetto ok allora in bocca al lupo per la prossima settimana Marronca sarà in panchina si a seguire Kevin vuole che gioco che è così passaggi cannonieri non gioco non gioco io lo devo fare perdere ok ragazzi allora ecco è caduta la stampa ciao ragazzi alla prossima grazie